Lavori in corso al Museo Archeologico di Chiavari per garantire la sicurezza durante le visite. I lavori sono partiti con la spinta del Covid per eliminare la strozzatura finale nel percorso museale. L'apertura a dicembre. Devo dire che la sensibilità del Comune che ci è venuto incontro in questa fase ha consentito di effettuare una serie di lavori che permetteranno di entrare da una porta e uscire dall'altra. Questo consentirà anche di ampliare il numero di utenti da 25 totale, il che voleva dire escludere le classi molto numerose, ad un numero molto più ampio. Verrà potenziata ulteriormente la vocazione didattica del museo già ampiamente consolidata negli anni. Devo dire che il Museo di Chiavari ha una trentennale esperienza di didattica museale. Questo grazie anche alle persone che hanno lavorato qui e che hanno dedicato qui a questo museo tante energie e tanto tempo. Ci sarà proprio una postazione per i laboratori che si fanno normalmente, che abbiamo sempre fatto ricavando spazi all'interno del museo. In questo caso avremo uno spazio dedicato. Il recupero degli spazi è stato possibile anche grazie allo spostamento della biblioteca archeologica. Nel palazzo dell'ex tribunale sono in corso i lavori per aprire al più presto, per due giorni e la settimana, con personale formato. È forse una delle biblioteche più ricche. Chi deve fare una ricerca archeologica sul territorio della Liguria di Levante si reca a Chiavari. In occasione dei lavori è stato modificato l'allestimento con focalizzazione non solo sulla necropoli, ma più in generale sulla storia della città dall'anno zero al Medioevo. Un assaggio di quello che potrebbe essere un domani il museo, con il trasloco al Palazzo della Cittadella, l'ex tribunale di Piazza Mazzini. Il Ministero per i beni culturali, la direzione regionale Musei della Liguria, ha creduto in questa cosa, tant'è che ha finanziato, ha erogato un congruo finanziamento per l'allestimento, non per il restauro del palazzo, ovviamente, perché il palazzo non è di proprietà dell'amministrazione dello Stato, ma è di proprietà del Comune di Chiavari. Devo dire che anche il Comune ci sta credendo, sta facendo una serie di interventi propedeutici. Se io devo sognare, sogno un allestimento su un piano della Cittadella, così chiamato, questo immobile, e a fianco alla Torre Civica, che è questo edificio importante per Chiavari. Ma sono abituata, come dire, a fare piccoli passi e a traguardare le cose credibili e fattibili. Per ora diamo un assaggio alla popolazione, alla cittadinanza, di quello che potrebbe diventare un museo alla Cittadella, e poi si vedrà. Grazie.